Ciao da Francesco Nano, bentrovata o bentrovato su scuolasuono.it, questa è la quarta puntata, il quarto episodio della serie vivere della propria musica con il metodo scuolasuono che ti permetterà di puntare ad avere almeno una paga da 2500 euro con la tua musica. Qui lo dico, come si dice in queste situazioni e qui lo nego, nel senso che questo è il nostro obiettivo, secondo me è un obiettivo perseguibile, ma dobbiamo provare perché io ho certe idee e per l'appunto dobbiamo metterle in pratica. Ti ricordo a questo proposito che stiamo ancora cercando in questo periodo la band o l'artista da seguire direttamente, cioè il mio staff seguirà direttamente le azioni intraprese su web da questa band per l'autopromozione e quindi ti invito, se non l'hai ancora fatto, a proporti lasciando un messaggio qua sotto, oppure se ti sei già proposto vai a ritrovare la tua proposta, il tuo messaggio e cerca di aggiungere altre informazioni. Insomma ragazzi dovete convincermi che voi siete la band giusta, non importa se fate rap, non importa se fate metal, non importa se fate musica strana, però diciamo rimaniamo nell'ambito della musica leggera, avventuriamoci in posti proprio che io non conosco e quindi sui quali non potrei esservi troppo d'aiuto, però dovete convincermi, quindi mettete materiale, postate video, postate link, postate canzoni vostre, perché io e il mio staff dobbiamo farci un'idea chiara su chi sarà la band o l'artista sul quale proporremo il caso studio. Come vedi oggi vado un po' a braccio, nel senso che la materia che tratteremo oggi sarà molto tecnica, molto specifica, parleremo infatti di come tecnicamente si effettua una vendita su Paypal e quindi praticamente di come si può utilizzare il web per vendere qualcosa, nel tuo caso questo qualcosa sarà un file da scaricare e quindi eventualmente una canzone, un album o un altro tipo di file. Siamo arrivati a dire che è necessario vendere qualcosa su internet per iniziare a creare quel flusso di cassa, se non hai visto le puntate precedenti ti invito a farlo in questo momento, giusto due parole per fare un brevissimo riepilogo. Quello che si è detto nelle puntate precedenti è se non vendo niente non posso sperare di avere un flusso di cassa, se voglio concentrarmi nel vendere la mia musica, per quanto riguarda la mia opinione, mi parrebbe sciocco concentrarmi solo sulla vendita di un cd fisico, magari durante i live, magari anche quello va bene, però ci sono altri modi più bizzarri e creativi come ad esempio utilizzare internet per regalare la propria musica ed eventualmente vendere delle cose collaterali, delle magliette, la tessera al proprio fans club, un concerto in streaming, in diretta, tutto comunque passa attraverso la vendita, quindi a un certo punto per forza di cose ci troveremo di fronte all'esigenza pratica e fisica di, avendo un sito internet o uno spazio web, di mettere in vendita qualcosa. Quindi oggi ti spiego esattamente come si fa questo passaggio. Il metodo più sicuro è, come già accennato, Paypal, perché Paypal funziona in questa maniera, si frappone tra il venditore e l'acquirente, quindi fa da intermediario per le transazioni online e in questa maniera praticamente si frappone tra me e la tua carta di credito nel momento in cui ti volessi iscrivere all'accademia del mixaggio ad esempio, oppure tra te che vendi la tua musica ed il tuo pubblico perciò non dovrà darti i dati della carta di credito, passa tutto attraverso Paypal. E questo oltre ad essere un sistema che dovrebbe rassicurare i tuoi fans sull'acquisto della tua musica perché ha a che fare con un colosso, d'altra parte Paypal lo si vede un po' da tutte le parti, se bazzichi su ebay sai già che è il metodo di transazione preferito dagli utenti di ebay, non esistono più bonifici, non esistono più ricariche a carte prepagate insomma, quindi in effetti è il metodo più sicuro, ma è sicuro anche da un altro punto di vista, nel senso che Paypal porterà avanti degli accertamenti nei tuoi confronti, cioè richiederà per esempio della documentazione per provare che il conto l'hai aperto proprio tu, starà molto attento a vedere che tu non frodi le persone perché se arrivano lamentele o se succede qualcosa di sgradevole ebbene Paypal chiude il conto del venditore, non gli restituisce nemmeno i soldi, quindi il venditore è anche incentivato a non sparare cavolate e quindi a comportarsi correttamente insomma, tante volte, non tante volte per fortuna, però mi è capitato che sai avendo molti clienti c'è anche qualcuno che si lamenta, quindi mi è capitato a volte che un cliente si sia lamentato per in realtà delle incomprensioni perché non gli erano arrivati dei file, problemi tecnici, cose di questo tipo e abbia aperto una segnalazione a Paypal, ebbene Paypal in quel momento mi ha bloccato il conto, non potevo più né tirare fuori il mio denaro dal mio conto Paypal, non potevo fare niente se non dimostrare insomma che il problema effettivamente non sussisteva. E così è stato e quindi eccoci qua che continuiamo con la nostra attività online. Ebbene, nei prossimi minuti ti farò vedere proprio tecnicamente come tu possa fare la stessa cosa. Attenzione però perché desidero fare una premessa, la premessa è questa, io personalmente sono assolutamente in regola con il fisco, quindi ho aperto una mia posizione, una mia partita IVA diciamo, posso effettuare fatture, pago una tonnellata di tasse, quindi ovviamente ti invito a fare altrettanto, tuttavia c'è anche da dire che Paypal non richiede diciamo una partita IVA per poter aprire un conto e vendere qualcosa. Quindi sta a te interfacciarti con il tuo commercialista e capire in che momento della tua attività sarà necessario aprire effettivamente una partita IVA. Mi trovo in difficoltà perché mi verrebbe da dire che per quattro spiccioli non è fondamentale. D'altra parte uno, beh ma comunque i commercialisti le sanno queste cose, cioè sotto un certo volume di fatturato ecco non è necessario avere una partita IVA, le cose sono molto semplici, quindi non incapponirti sul discorso fiscale, certamente informati. Io in questo video non ti spiego niente che abbia a che vedere con il fisco, ti spiego semplicemente come funzionano le transazioni online e come tu puoi effettuare una vendita, quindi vendere qualcosa sul tuo sito. Spero che l'argomento ti piaccia, ti interessi perché è la base di tutto. Senza la possibilità di vendere noi possiamo fare qualsiasi tipo di promozione e magari possiamo anche vendere non autonomamente ma appoggiandoci su servizi esterni come iTunes. Tuttavia è chiaro che più intermediari ci sono, più commissioni ci sono. D'altra parte anche Paypal richiede una certa percentuale di commissione su ogni transazione e quindi già là sei penalizzato. Se poi anziché ricevere un euro ricevi 20 centesimi perché ci sono mille intermediari di mezzo, secondo me è un po' un peccato, è bene anche sapersi arrangiare da soli. Quindi lo ripeto ancora una volta, in questa puntata vediamo tecnicamente come si fa e a mano a mano che andremo avanti con questa serie vedremo anche quali sono i modi per far sì che la vendita venga. Intanto dobbiamo costruire l'infrastruttura, dobbiamo perciò avere uno spazio web, dobbiamo perciò avere la possibilità di ricevere del denaro e di dare in cambio dei file in questo caso, oppure nel caso di un oggetto fisico, una maglietta magari ci organizziamo per le spedizioni. In ogni caso vediamo come funziona la parte tecnica, poi come si arriva alla vendita e in realtà un processo successivo perché è inutile che io adesso ti spieghi come trovare 10.000 fans disposti con le bave alla bocca perché vogliono acquistare per forza la tua musica anche se è gratuita quando non hai messo in piedi un sistema di vendita. Quindi partiamo dalle cose pratiche, dalle cose tecniche. Allora, vediamo che cosa ti serve per effettuare una vendita. Intanto ti serve uno spazio web. Io utilizzerò come esempio scolasono.it perché su questo sito creeremo una pagina di esempio molto simile a quella che potrai creare tu. Per avere uno spazio web non sembra necessario acquistare o noleggiare dei server e diciamo investire molto. Anzi spesso si trovano delle possibilità anche gratuite per esempio Blogspot, per esempio Wordpress. Ti offrono degli spazi web nei quali ti danno la possibilità di creare i tuoi contenuti, le tue pagine, avere accesso anche parzialmente al codice e quindi le parti che ci interessano per posizionare i nostri pulsanti di pagamento Paypal e tutto questo anche gratuitamente in cambio del fatto che rimanga nell'URL quindi nell'indirizzo il loro nome come ad esempio scolasuono.wordpress.com o .org o quello che è o alcune cose di questo tipo. Quindi ammesso che una pagina web non è difficile da avere in internet e poi nelle prossime puntate vedremo come partiamo dal fatto che ci serve anzitutto oltre allo spazio web il nostro account Paypal. Dunque anzitutto devi registrare un account Paypal, business o premier. Trovi qua tutte le informazioni, Paypal è molto chiaro nella spiegazione e la cosa che ti posso dire è che l'account personale ti consente solamente di acquistare attraverso Paypal ma non di mettere in vendita qualcosa. Quindi prima cosa devi creare un conto Paypal di questo tipo. Dopodiché nel momento in cui ce l'hai accedi esattamente come sto per fare io. Vedrai che Paypal ci mette un po' perché è un sistema molto sicuro. Ecco qua, questi sono i miei grandissimi conti non ti faccio vedere i dettagli come puoi vedere sono ricco in questo momento. Dunque, quello che vogliamo fare noi è creare uno di quei pulsanti tu lascia stare tutto quello che vedi su scolasuono.it perché io ti insegno delle cose ma ne faccio altre. Quindi il mio sistema è molto complesso e articolato proprio perché la mia idea è quella di ospitare molti corsi da mettere in vendita su scolasuono.it anzi se ti viene qualche idea, se sei un insegnante di musica vuoi creare il tuo corso o se hai qualche disciplina particolare che vuoi insegnare ci possiamo accordare. Scolasuono.it a parte la cosa funziona così che dobbiamo creare uno di quei pulsanti sui quali cliccare tipo di solito c'è scritto paga subito o paga ora che andremo ad inserire nel nostro sito web copiandone e incollando il codice adesso ti faccio vedere come si fa e questo pulsante servirà agli utenti del tuo sito a eseguire la transazione quindi ci cliccheranno sopra verranno invitati sulle pagine di Paypal potranno pagare attraverso l'uso di carta di credito o attraverso il loro conto Paypal quindi non attraverso valia postale o bonifico bancario no, attraverso Paypal perché attraverso Paypal? perché è più semplice, più rapido perché noi italiani ci dobbiamo un pochino sbrigare con queste carte di credito è un sistema sicuro al mille per mille 999 per mille comunque stavamo dicendo dobbiamo creare il nostro pulsante per fare il pulsante andiamo su profilo come vedi sempre lentamente ti trovi tutta una serie di voci e clicchi qua sotto preferenze per la vendita su pulsanti salvati creiamo un nuovo pulsante crea nuovo pulsante a questo punto ci vengono prospettate tutta una serie di opzioni che adesso andiamo a vedere allora scegli un tipo di pulsante come puoi vedere ci sono varie diciture per esempio se tu scegli carrell paga adesso sul pulsante il pulsante avrà questa questa forma qua se tu scegli pulsante donazioni quindi che è un pulsante che ti consente di ricevere una donazione quindi non vincolata a un prezzo ben specifico avrà questo questa grafica diciamo poi buoni regali iscrizioni quello che a te interessa può essere o aggiungi al carrello oppure paga adesso diciamo che utilizziamo il paga adesso che è proprio inequivocabile allora nome dell'oggetto per esempio l'oggetto potrebbe essere biglietto virtuale per concerto live in internet ok id dell'oggetto puoi lasciarlo libero perché è un campo opzionale prezzo allora adesso noi per fare un prezzo di prova lo possiamo mettere a 0.1 anzi 0.01 euro quindi un centesimo tu ovviamente potrai mettere 10 euro potrai mettere 9 euro 90 qui prezzi strani potrai mettere 100 euro a seconda di quello che stai vendendo allora personalizzazione del tuo pulsante aggiungi menu a discesa con prezzo di opzione qua puoi vederti gli esempi ti danno loro degli spunti ma adesso noi rimaniamo sul semplice facciamo che vendiamo una semplice cosa aggiungi menu a discesa aggiungi campo di testo queste cose le lasciamo da parte allora spedizione nel caso in cui ci sia un prezzo di spedizione qua puoi inserire il prezzo di spedizione poi verrà conteggiato assieme al prezzo dell'oggetto o del servizio che stai vendendo questo qua lascialo tranquillamente qua utilizza il mio id conto commerciante sicuro è ok passaggio numero 2 dunque salva il pulsante paypal gestisci le giacenze gestisci i profitti e perdite allora il passaggio numero 2 diciamo che lo puoi anche saltare a piedi pari è una cosa che difficilmente ti riguarda quando fai un'operazione semplice come quella che stiamo facendo adesso passaggio numero 3 personalizzazione delle pagine di pagamento desideri consentire ai clienti di modificare la quantità dell'ordine cioè possono acquistare più biglietti per il nostro concerto virtuale sì o no se clicchi sì verrà data la possibilità l'opzione di inserire la quantità il numero di oggetti che comprano noi lasciamo no il cliente può aggiungere istruzioni speciali in un messaggio indirizzato a te anche questa è un'opzione nelle pagine di pagamento se lasci sì come puoi vedere ci sarà una casella che puoi chiamare ad esempio informazioni per la band in cui il tuo cliente può lasciare un messaggio di testo e quindi customizzare la richiesta nel nostro caso scriviamo no anzi lasciamo sì questa è un'opzione simpatica lasciamola così l'indirizzo di fatturazione del cliente è obbligatorio ma non so ti spiego la differenza allora sì quando fai le cose assolutamente in regola ti serve per forza di cose no è più facile che uno acquisti nel senso che ci metto meno a fare l'acquisto magari sono preso da un momento di debolezza dal shopping compulsivo vado acquisto e non è che devo pensare appena l'indirizzo riempire campi quindi è sfruttabile in questo senso ma diciamoli sì perché noi le fatture le vogliamo fare e se i clienti annullano il pagamento reindirizzali a questo URL quindi se diciamo così se la transazione non viene completata dal cliente ma a un certo punto cliccano annulla possono essere reindirizzati su una determinata pagina del tuo sito web dove ad esempio potresti inserire un'offerta ad un prezzo più basso guarda partecipa anziché partecipare a tutto il live partecipa a 20 minuti con un prezzo scontato del 50% per esempio con sotto un altro pulsante Paypal oppure una pagina semplicemente grazie di aver provato ad acquistare oppure se trovi dei problemi nell'acquisto contattami via email diciamo è una pagina di servizio e infine abbiamo questa opzione che viene definita al termine della procedura di pagamento reindirizza i clienti su questo URL allora questa è una cosa utile perché i clienti che finiscono il pagamento gradiscono ricevere subito la cosa che hanno comprato quindi le strade sono due o hai un sito web nel quale puoi creare una pagina nascosta quindi non accessibile a tutte le persone che passano sul tuo sito quindi tutti i tuoi visitatori ma è un'area nascosta nella quale posizionare il link per scaricare il file quindi un pulsante dove ad esempio c'è scritto clicca qui per scaricare il il brano ad esempio che hai acquistato oppure per ricevere il il biglietto contattami via email diciamo delle istruzioni per avere subito la cosa che hanno acquistato noi in questo caso non lo facciamo perché facciamo un esempio ancora più semplice il caso in cui tu ti impegnerai a rispondere immediatamente all'email di pagamento quindi nella pagina nella quale sarà inserito il pulsante di pagamento tu scriverai subito dopo il pagamento io riceverò un'email entro 48 ore ti contatterò e ti darò i dettagli per partecipare ad esempio al mio live ovviamente tu quando ricevi un pagamento ricevi anche una notifica automatica e sarà a tua cura aprire l'email costantemente controllare le notifiche automatiche e metterti in contatto con la persona che ha acquistato il tuo prodotto o servizi servizio va bene qua sotto abbiamo una parte per utenti esperti quindi la saltiamo immediatamente clicchiamo su crea pulsante e vediamo quello che succede ecco qua ci dà un messaggio di errore ci dice che il prezzo non è valido perché avevamo scritto 0 punto vediamo 0,01 il resto dovrebbe essere rimasto invariato quindi crea pulsante eccolo qua allora il pulsante è stato generato e lo vedi qua a fianco questo è il codice che ti servirà da inserire nel tuo sito web affinché compaia il pulsante quindi assolutamente questo qua lo evidenziamo tutto possiamo anche fare così basta cliccare si evidenzia tutto se no hai anche qua il pulsante seleziona codice copiarlo io in questo momento faccio copia con la tastiera e ce l'ho in memoria pronto da inserire nelle pagine del mio sito web però se controlli bene qua a fianco hai un'altra possibilità email ebbene se tu avessi una mailing list di diciamo 10.000 fans e gli dicessi scrivessi un messaggio dicendo solo per i primi 10 il nostro nuovo album a 50 centesimi o a 1 euro ok scarica l'intero nostro album a 50 centesimi solo i primi 10 per fare un'operazione promozionale insomma per far sapere che c'è il tuo nuovo album ebbene potresti anziché mandarli appena mettere un link che porta al tuo sito web dove sul tuo sito web vendi c'è il pulsante paypal e vendi questo servizio questo cd oppure il live di cui stiamo parlando potresti semplicemente allegare questo link copiarlo e inserirlo nel testo dell'email e loro si troverebbero cliccando su questa stringa di codice presente nel testo dell'email direttamente sulla pagina paypal pronti per acquistare quindi in questo caso salteresti dei passaggi ricordati che semplificare la vendita quindi saltare dei passaggi ha sempre dei suoi pro e dei suoi contro il contro è che magari non scendi nel dettaglio non spieghi precisamente le cose il pro invece che si hanno quello che in gergo tecnico si definiscono conversioni maggiori cioè una percentuale di vendite superiore rispetto a un processo più complicato comunque queste sono le due strade per vendere quel determinato servizio noi abbiamo scelto di copiarci tutto il nostro codice e inserirlo sul nostro sito web adesso ti faccio vedere come si fa come ti dicevo prima abbiamo bisogno di un sito web in questo caso si tratta del mio sito web e adesso ti porto dietro le quinte di scuola suono punto it perché andremo a creare una pagina di vendita che se non ricordo male ne avevo già creata una per prova ma forse l'ho anche cancellata adesso non scendo nei dettagli questa è una piattaforma wordpress non scendo nei dettagli di di wordpress ci sono moltissime risorse valide anche video tutorial che spiegano come utilizzare professionalmente wordpress vediamo di andare direttamente alla pratica facciamo finta che tu sappia già utilizzarlo e creiamo una nuova pagina allora la chiamiamo la chiamiamo compra il biglietto per il live di stasera questo è il titolo e poi possiamo dire ciao caro visitatore ti invitiamo a partecipare alla nostra diretta web dalla nostra sala prove il concerto si svolgerà in streaming puoi acquistare il biglietto per 0,01 euro per effettuare il pagamento attraverso paypal il sistema più sicuro di pagamento online clicca sul pulsante che trovi in basso e qua ci metteremo il pulsante sottoscriviamo attenzione dopo il pagamento io riceverò una notifica automatica di transazione avvenuta due punti entro 48 ore dal tuo pagamento ti ricontatterò per darti tutte le informazioni necessarie a partecipare al live firmato Francesco Francesco ok adesso andiamo a modificare a sostituire questa scritta con il codice del pulsante come puoi vedere in questo questo sito è particolare ha queste particolarità però ogni pagina web è formata da quello che vedi e quello che sta sotto cioè il codice che l'ha generata in questo caso il codice si può inserire cliccando qua su html e in questa parte possiamo incollare il nostro pulsante se adesso andiamo in visuale eccolo qua lo ritroviamo cioè quel codice che abbiamo appena inserito ha fatto comparire come per magia il pulsante di pagamento tra l'altro ci potrei già cliccare a questo punto se noi andassimo a pubblicare adesso io faccio solo un'anteprima per non inficiare il buon funzionamento di scuolasuono.it eccolo qua vabbè adesso qua c'ho dei problemi di visualizzazione ma dovuti solamente a particolarità del mio sito come puoi vedere ciao caro visitatore bla 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 e qua c'è il pulsante di pagamento paga adesso ci proviamo proviamo a fare il pagamento allora per fare il pagamento dobbiamo uscire da questo conto e clicchiamo per acquistare il nostro biglietto ah per metterlo centrale tanto per la cronaca che magari ci piace di più facciamo così anteprima ed eccolo qua centrale benissimo ci clicchiamo sopra ti confesso che mentre stavo registrando mi sono accorto di un bug di paypal ossia il fatto che di per sé se utilizzi la mia piattaforma quindi il wordpress che sto utilizzando io per realizzare un sito e incolli in un articolo un pulsante paypal quel pulsante non funziona allora ho trovato uno stratagemma che è stato quello semplicemente di salvarmi l'immagine sul mio disco rigido dopodiché l'ho inserita come se inserisse una qualsiasi fotografia all'interno del mio sito e su questa ho praticamente creato un link con il link che praticamente era quello segnalato da paypal da inviare via email e ho ottenuto esattamente il risultato che stai per vedere in ogni caso o in un modo o nell'altro lo puoi fare per assurdo potresti anche senza mettere l'immagine di paypal che comunque è carina potresti fare paga qui selezionare il testo inserire un link e per l'appunto questo link è questo di paypal l'effetto sarebbe il medesimo andiamo a vedere come si comporta la pagina che adesso vado a ricaricare tra l'altro avviso tutti guarda qua Alessandro ha iniziato a parlare nella chat ebbene è attiva la chat di scuolasuono punto it se ancora non l'avessi scoperto basta che vai qua ti loghi e puoi inserire il testo ciò non c'entra assolutamente niente in ogni caso ritorniamo alla nostra pagina e vediamo come abbiamo il nostro bellissimo pulsantino paga adesso che funziona così cliccandoci sopra tra l'altro non è comparso il link aspetta allora quello che avevo messo prima faccio aggiorna forse non avevo fatto aggiorna così tanto per sicurezza riaggiorno la mia pagina forse non avevo salvato il cambiamento eccolo infatti adesso è venuto fuori anche il link testuale che abbiamo fatto che in ogni caso ci porta sempre a questa pagina qua cliccandoci sopra questa è la pagina di pagamento di paypal che vedranno proprio i tuoi clienti infatti c'è scritto il prezzo ci sono scritte tutte le caratteristiche se ti dice che insomma in pratica ti viene detto che per effettuare il pagamento devi abbinare la tua carta di credito al tuo conto a un conto paypal altrimenti accedi direttamente con il tuo conto paypal cosa che io farò in questo momento ti risparmio la trafila di nuovo del passare attraverso il conto e ti faccio vedere direttamente il risultato tieni presente che se vuoi fare queste prove qua devi avere per forza di cose due conti paypal perché non puoi farti un pagamento attraverso su un pulsante creato su un tuo conto paypal attraverso lo stesso conto paypal che paga quindi non puoi autospedirti un pagamento quindi devi averne per forza due o tu e un tuo amico ne avete due uno tuo e un tuo amico insomma bisogna organizzarsi in qualche modo vediamo dunque come deve procedere il tuo acquirente bene questa è la pagina che in questo caso il tuo acquirente si troverebbe di fronte tieni conto che andando a scartabellare nelle impostazioni avanzate di paypal tu puoi fare in modo che questa parte della pagina che adesso io ho evidenziato non venga fuori solamente col testo scritto con l'indirizzo della tua email ma vengano fuori delle immagini quindi puoi caratterizzare anche il processo di vendita attraverso paypal ed è diciamo una fase riepilogativa a questo punto io clicco su paga adesso il pagamento è stato effettuato se non vieni reindirizzato entro 5 secondi clicca qui noi aspettiamo ecco questa è una pagina diciamo automatica che il mio sistema paypal che è interfacciato con dei sistemi particolari caricati su scuolasuono.it genera quindi quando c'è stato un acquisto propone di andare all'area clienti eccetera eccetera tu se ti ricordi nella parte di customizzazione del tuo pulsantino paypal avevi la stessa possibilità cioè la possibilità di customizzare il tuo l'indirizzo di destinazione subito dopo il pagamento in questa pagina puoi dire complimenti per aver acquistato il biglietto per il concerto controlla l'email entro 48 ore ti spedirò un link oppure se lasci vuoto il campo come in realtà io avevo fatto prima ma per una serie di macchinazioni complicate lo stesso ho una pagina di destinazione preconfezionata se lasci vuoto quel campo semplicemente paypal avvisa che la transazione è stata effettuata e di controllare l'email insomma quindi a questo punto andiamo a vedere quali sono le email che arrivano al compratore e al venditore al venditore viene scritto un email di questo tipo notifica della ricezione di un pagamento con diciamo il riepilogo di quello che è stata la transazione eventualmente l'id della transazione eccolo qua per trovare su paypal la transazione eventualmente per fare fatture o altre cose il nome dell'acquirente la sua email eccetera eccetera invece vediamo che cosa viene inviato al compratore al compratore il compratore riceverà un email come questa nella quale anche egli riceve diciamo un riepilogo il prezzo che ha pagato la la persona verso cui l'id della transazione ovviamente il commerciante economy veniva il nome con il quale ha avuto a che fare il riepilogo eccetera eccetera quindi in questo caso lui sa già perché l'hai avvisato tu o prima della transazione o dopo la transazione nella pagina di atterraggio post vendita che entro un tot di tempo ti metterai in contatto con lui a questo punto i metodi per far avere qualcosa di scaricabile al tuo cliente sono diversi ci sono dei servizi che ti permettono di ospitare gratuitamente dei file scaricabili solamente dando un link quindi ad esempio nell'email che gli scriverai scriverai grazie per aver acquistato puoi scaricare la nostra canzone da questo link qua se non hai un sito web oppure puoi caricare l'oggetto sul tuo sito sono cose tecniche insomma che vedremo più avanti e in maniera più dettagliata se vogliamo altrimenti se si tratta ad esempio del servizio di live streaming come abbiamo venduto noi adesso puoi comunicare via email per esempio una password per accedere ad una certa pagina che altrimenti non si può vedere se non si inserisce la password corretta e in quella pagina si troverà il live streaming il concerto con magari anche il backstage ed altre cose interessanti che preparerete tu e la tua band bene questi sono gli rudimenti di Paypal mi auguro di esserti stato da d'aiuto ti invito immediatamente a creare il tuo profilo Paypal il tuo account Paypal da commerciante quindi non l'account personale quello solo per acquistare quello per vendere perché così sei già un passetto più avanti già pronto per poter vendere qualcosa di musicale sul sul tuo sito ti saluto un saluto da Francesco Nano oggi non sono brillante come se sono un po' stanchino è vero ma d'altra parte ci stiamo lavorando per voi quindi effettivamente oggi sono così vabbè spero che mi vorrai bene lo stesso ciao da Francesco Nano bentornata e bentornato su scuola suono.it ci vediamo alla prossima puntata o ai prossimi video che saranno presenti su scuola suono.it ciao ciao